Signori benvenuti e bentornati in questo fantastico nuovo episodio del Road to Champions su Rainbow Six Siege Oggi ragazzi continua il periodo disastroso con i cheater Infatti questo video veramente lo chiamerò la situazione attuale di Rainbow Six Siege nel 2024 Una cosa del genere perché veramente vi giuro che su PC ad ogni partita si becca almeno se ne beccano 2-3 di cheater Ovviamente quelli palesi perché io lascio stare quelli che magari usano il Wallach e che neanche si vedono e tutto Quelli palesi se ne trovano 3-4 a partita che sinceramente è una cosa molto grave Un bel mi piace, un commento, un'iscrizione e vi lascio il video Ehm, di nuovo sta mappa di merda? Villa, difesa, safe però almeno Cosa? Almeno, non ci sono cheater in teoria Non ci sono cheater, c'è 1-49 contro Eh ma 10 game dai, diamogli il benissimo del dubbio Eh gioca da 4 season, sì dai va bene Eh sì, da quando iniziate a città E quell'asid No, no dai Secondo me è pulita Vai chat Allora Perché altro è la mia speranza però La tua speranza? Hai delle speranze ancora su questo gioco? Verso pochi e basta Fai, puoi chiudere e annullare quelli di prima Ci sono i pronostici? Eh quando ci sono, no vabbè, annulli, no vabbè Eh ti fai partire con gli nuovi Mi hai dato del lei Ok, no Ok, no Sì sì, fai partire sempre, fai partire sempre per noi Eh, è da Dove? Oh, è cercato di sottotitare Eeeh Oh C'è un drone di Twitch da qualche parte Non c'è un drone, non c'è un drone di Doc Eh, sono già dentro dietro Morto He's cheating con l'happena detto He's cheating, he's cheating He's cheating con l'happena detto He's cheating con l'happena detto Finca morto There was another one, there was another one Why? Eh, it was on the like plane, I believe Can you heal him Doc, please? I don't know Doc, di cui? Sì, c'è due, fai nanzia Sì, mi ha pingato Che cazzo vuol dire? Il main, maesters Questo è un classico, lui Top classico Il main, sempre il main Morto Uno studi L'altro? Non so dove l'altro è Ho solo il bambino Io su scala Dock, 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 dock Ok Ok Sì, c'era un buon tempo con la Havana Meno male, bovina che non ti ha ammirato Nice goal Allora Statuary Io riprendo Capcom Non ne hanno preso mezza Però, raga, bov, ho fatto tre kill Sti cazzi Ma che c'è fotte Chat, votati per i nostri chat Porco Allora, shot Dai Dopo 65 partite con i cheater Ancora non li ho attivati Ora, magari Serino Magari mo partono E cominciano a sapere tutto E non è che dico niente Però All'altro Cazzo li metto sti Capcom che non li hanno presi Tacci dai pippo Ti stronzi di merda, uh Allora 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 Ok Ok Questa pre-fire Ciao Sì, eh, sì Allora Ho presentato la porta maine Sì, la mia biblioteca Cosa Why u rolling? Ma ha cambiato il target Prima citavo un altro Ma questo E poi a quello risponde Why not? È giusto. Stanno dronando. Eh, bagno. Chi resta bagno. Pure bagno? Braaa. No, non è più lì, non è più lì, amore. Vabbè. Mi ha scattato una carica, però non so dove. Eh, uno è sotto, scale astro. Abbiamo il defuser. Abbiamo il defuser landing. Astro, astro. Uno scale astro, uno sotto. Uno. L'ultimo è qua da me, eh? Non lo so. Non lo so. Uff. No, non lo so. Non lo so. Ma lei è la storia? Bedroom. Stai guardando verso Bedroom. Ah, di nuovo finestra. Bagno. Bagno? Questo lato qua, non so esattamente... No, finestrastro, mi sa... No, bagno, 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 bagno... Ok, è dentro. Eh, metta vita. Dai! Nooo! Si guarda un po' intorno e poi è girato direttamente dalla scena. Ah, zio, 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 zio... Eh, penso. Potrebbe citare. Potrebbe il bluuuu. Se ti pare avuto un po' intorno. Sioo, se sì.... Sì Poi più di più per come si muoveva ok per come usciva senza mirare No, si all'inizio da finestra la finestra ha rotto il culo Quanto probabilità c'è di essere bannati sul rainbow? Zero Tracker no nel tracker il bidone 088 No, non c'è nessuno C'è sta accettando quello che non sta accettando 088 Finestra a bagno credo Verso study main Di nuovo asa a bagno c'è finestra a bagno E' già in 90? Pro? Yes è già in 90 lui? Non lo so Allora, faccio schifo al cazzo Ho smirato la mano storta Perché ho detto la mano storta? Bagno, bagno entrata Bagno entrata? C'è Una puttana Ma almeno è morta Ma è morta? Finestra astro Ok, vai qua c'è il cibo Dove c'è il cibo? Non è saprato sul tetto Un'astro window Un'astro window Non l'ho appreso se ce la trova la testa Scusatemi Mi hanno sentito un buio Bagno No è astro Scale Scale è astro Che ossa è il cheater Ce l'ho proprio io Non vanno Astro vanno ossa Eh, sono abbastanza fattuta Perchè? Si Ho deciso di scappare però c'è qualcun Eh Sant'è Dove un'altra? L'ho preso L'ho preso è riuscirci no è riuscita questo bastardo oltre a fare prefiling ha scelto anche un operatore bastardissimo perché c'ha lo scudo vuole detto fa che poi è triggerabile non neanche allora molto poco mi interessa che sia tracarabile se sappiamo che c'è ti devo dire gianfranco ti devo dire continua a non capire perché io continui a reportare gente ragazzi mi diverto a far abbassare il prossimo adesso riporto anche i nostri compagni non so se non mi sembra che stia accettando perché naturalmente in squadra mai che mi raccontate chat di fatemi divertire che succede che succede giro Dexal cosa ne pensi di razzii col buffo sembra sempre proprio escobar baffetto da birra esatto pregno di birra mi sa che sono sotto 8 ok c'è ok c'è ok c'ho capito c'è una scelta stilistica che hanno fatto sono così tanto sicuri di vincere che vanno pure sotto poi gliene apriamo un cazzo a vita a questo adesso quale sotto sai cosa ci fa una mucca sulla montagna facile amore non ho capito non ho capito c'è o così o c'è 90 dimmi oh che ti ho visto volare per me ormai è morto oh i tuoi ping non sono perfettamente dove sono non muccaggia dai pushali e spingi di Dexal c'è veramente non si usa così montagna sono in 30 allora state gli altri un po' di strada o mai ah no Dexal non si usa così eh c'è il melusi che l'ha potenziato o cosa? non ti muovi sei immobile molto male molto male sono riuscito a trovare il sito dei film Goblin adesso due giorni e posso guardarlo dai Yamat poi fammi sapere se ti piace è molto bello soprattutto a metà cioè fai il suo versi che fanno ok va bene 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 c'è nessun problema va bene va bene va bene allora c'era il concerto di Doja Cat ieri oh vabbè che cazzo 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 io dove ero io dove ero ma state in culo ma se posso? non ci sto pensando ci sto pensando allora O dona 200 sub in 10 secondi non lo bagniamo ma abbiamo deciso comunque meno male Rai che si dovevano svegliare più tardi eccetera eh si fra no ma hanno una schedule molto buona eh perché il lavoro ragazzi chiama è giusto così più lavorano più guadagnano hai capito ormai riportate barretta proteica bellissima brooo can you stop riding? we know ok that's rainbow change game ok ma com'è sul rainbow nah nah bro that's rainbow don't play this game ma ma oh my god now I can report to you I like it I don't care bro it's a waste of time why is all this fucking surrender ma perchè? ma sei un idiot waste time really? non giocare questo fucking game Go! 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 Sì, perché siamo in Rainbow, 2024. Non giochi questo game! Grazie, Lucifer, per la sabbia il regalo. Ok, non ti banno. Oh, poco! Ma comunque, ragazze, la città la gente la odio. Cioè... È perdita... Questo dice... Oh, questo città è perdita di tempo! Sono in troppo! Sì, lo so, lo so, è quello che cercavo di sminchiare quello là dentro. Questo dice perdita di tempo, non giocare a questo gioco, settimamente. Cioè, che cazzo vuole? È pieno di cheater e questo dice... Oh, ma c'è un cheater! Surrendiamo! Come se nella prossima partita non trovo un altro cheater, sto coglione. Capito? Così. Perché nella prossima partita non c'è protein bar 43 a posto di 42. Si chiamano tutti così ormai. No, non c'è. No, non c'è. A ver. Listen to our advice, go to Minecraft bro. Brother, he's... They're ones cheating. Yeah, every game they're cheating! Change game and shut the fuck up! Let us play! No! No 1. Sorry, no 1. No! Los smail!